E ben ritrovati nostra compagnia amici, oggi si parla di risparmio sulle quattro ruote, risparmio che ci porta direttamente dalla concessionaria Queen Car nella sede di Torino, Corso Grossetto 18, Queen Car è la vostra concessionaria di fiducia da tantissimi anni, concessionaria multi brand dove trovare tantissime autovetture chilometri zero con sconti 51% ma questo mese avete una motivazione in più per passare da Queen Car perché solo qui è già arrivato l'eco bonus per Pensate fino a 11.000 euro, ciao Massimiliano ben trovato Ciao a tutti ben ritrovati, vi ricordiamo la Queen Car è atterrato l'eco bonus, cosa vuol dire? 11.000 euro di risparmio sulle autovetture, 51% sulle vetture aziendali, 300 autovetture a chilometro zero dalla Kia alla Nissan alla Hyundai e vi ricordiamo concessionari anche l'assistenza in sede di Mitsubishi, Sayong e Mahindra Solo da Queen Car portate a casa l'auto e la pagate poi Sì, certamente addirittura zero anticipo, prima rata luglio, piccola rata mensile a partire da 80 euro al mese e nella vostra rata già l'assicurazione, il furto incendio, addirittura la casco, la manutenzione e questo mese vi diamo anche le gomme da neve E tutto è pronto amici per le proposte firmate Queen Car, state con noi Partiamo subito dalla Mitsubishi Speastar 1000 benzina, attenzione al prezzo, listino 13.000 euro, Queen Car ve la fa portare via, un chilometro zero aziendale a solo 6.900 euro Dando zero anticipo, piccole rate mensile, assicurazione, furto incendio, tutto incluso nella rata Passiamo alla Mitsubishi ASX 1600 benzina, benzina GPL o turbodiesel, anche qui super promozione con l'eco bonus fino a 11.000 euro, una macchina che costa di listino quasi 30.000 euro La portate via 19.900, se volete la versione benzina addirittura a 14.450 euro Con la vettura da rottamare, zero anticipo, piccole rate mensili, prima rata a luglio Passiamo alla Mitsubishi L200, doppia cabina o cabina singolo con un risparmio del 22% col chilometro zero da 18.900 euro Anche qui sempre zero anticipo, possibilità di finanziamento o leasing Passiamo alla Mitsubishi Hotlander, 2.000 benzina, benzina GPL o 2.200 turbodiesel o la versione ibrida Addirittura l'eco bonus fino a 11.000, no ecotassa, addirittura a partire da soli 20.250 euro Passiamo alla Mitsubishi Eclipse, ultime vetture a chilometro zero disponibili Addirittura con 11.000 euro di risparmio Vettura da 28.000 euro, la proponiamo a 17.900 euro, venitela a vedere Vi ricordiamo qui in cari concessionari a Sayong Partiamo subito dalla macchina più venduta, la Tivoli 1.600 benzina, benzina GPL Ola versione turbodiesel, un listino oltre i 20.000 euro La Queen Car ve la fa portare via a 12.900 euro con la soluzione Evergreen Tutto incluso nella vostra rata Sempre in casa Sayong con la XLV, avete bisogno di spazio Questa autovettura a 700 litri di bagagliaio Venitela a vedere anche qui, benzina GPL Un eco bonus fino a 7.000 euro a partire da 15.900 euro Passiamo alla regina in casa Sayong Rexxon 2002 turbodiesel, cambio automatico 4x4 Si può avere 7 posti, vettura che costa oltre i 38.000 euro La Queen Car vi dà un eco bonus addirittura fino a 11.000 euro La portate via a 25.900 euro Venitela a vedere, provare su strada Passiamo alla Sayong Rodius 2.2, 4x4, 7 posti Al risparmio fino anche qui con l'eco bonus di 11.000 euro Ve la portate via a un prezzo di 24.900 euro Passiamo in casa Mahindra con la Cuv100 Benzina e GPL o solo benzina a partire da 9.900 euro Non può mancare l'XV500 2.2, 7 posti, 4x4, 8.000 euro di risparmio La portate via a 18.900 euro Anche Km0 in casa Nissa con la Micra Km0 a 9.900 euro Non può mancare il Cascai 1.2 benzina, oltre 10.000 euro di risparmio Ve la proponiamo a 19.900 euro Se per Km0 in casa Toyota è un Ego 1000 Benzina full optional a 9.900 euro Super risparmio il Km0 in casa Hyundai Il Tucson, listino di 28.000 euro La Queen Car ve la propone a 17.900 Sia versioni benzina è disponibile anche le versioni diesel Tutta la gamma Kia a Km0 Esempio lo Sportage Km0 A partire da 17.900 euro Non può mancare anche la Picant A 8.900 euro Ci sono disponibili anche la versione Niro Ibrida a Km0 A 20.900 euro Ebbene amici, dopo queste belle proposte Ovviamente erano solo alcuni esempi E' proprio il caso di dire che se volete risparmiare Da Queen Car dovete passare Proprio in questo periodo In questo mese, mese della primavera Voglia di cambiamenti Da Queen Car avete la possibilità Di portare a casa un'auto Non solo senza versare un euro d'anticipo Ma approfittando dell'eco bonus Che qua è già arrivato Ed è fino a 11.000 euro Sì, certamente Vi ricordiamo L'eco bonus Fino a 11.000 euro di risparmio Tantissime macchine a Km0 Come GPL Benzina Versione ibride C'è la possibilità di scegliere Qualsiasi autovettura Di qualsiasi marchio Sempre per farvi risparmiare Sul Km0 E solo qui da Queen Car La portate a casa senza versare un euro d'anticipo Sì, certamente Addirittura Zero anticipo Prima rata a luglio Piccole rate a mensile A partire da 80 euro al mese Nella rata possiamo mettere L'assicurazione furto incendio La manutenzione E questo mese Non possono mancare Le gomme di neve Già incluse nell'autovettura E allora Vogliamo ricordare l'indirizzo Max? Sì A Torino Il corso Grossetto 18 Vi aspettiamo La manutenzione La manutenzione